Allora ragazzi, attenzione, Inter, leggete con noi il titolo, gennaio e febbraio fanno paura, abbiamo la grafica del calendario, quindi io chiedo alla nostra regia se per favore ce la manda, eccola qua, eccola qua, con che tempismo ragazzi, eccola qua. Calendario Inter, pensiamo anomalia Inter, ma perché io te la servo così su un piatto di argento, me lo spieghi, me lo spieghi, Massimiliano Laio, lei che è avvocato, mi vuole spiegare questa anomalia, questa anomalia? L'anomalia è la supercoppa d'agosto, lo ribadisco, la supercoppa d'agosto a gennaio. Mi scusi Riccardo, lei che è di quella squadra lì, mi legge il calendario, voglia di farmi questa prudenza. No, è un calendario complicato, questo ad avvallare la tesi di quelli che dicevano che il calendario era stato fatto da Marotta, prima o poi le devi affrontare le squadre, quindi è sicuramente complicato. Stiamo restando che poi dopo queste partite arriverà anche la doppio confronto con l'Atletico Madrid in Champions League, però secondo me la squadra è pronta per affrontare tutto, è chiaro che molto passerà da quel 4 febbraio, in cui l'Inter potrebbe essere seconda in classifica. Perché poi ne manca potenzialmente una, perché il 19 c'è l'Inter Lazio e poi il 22 c'è l'eventuale finale se l'Inter passa. Ah beh, certo. E' vero, tra l'altro è vero, è vero, è vero. Il fatto comunque di andare in Arabia è sicuramente una, è vero, è vero. Ma se prendete una paccata di soldi per andare in Arabia. Ma no, guarda, in realtà mi sembra che questa competizione abbia vissuto e continua ad avvallare la mia tesi. Cioè, quindi tu non sei contento di partire? No, è sicuramente un trofeo e io me lo vado a giocare, però è stato in dubbio fino alla fine, è stato spostato come data tre o quattro volte, abbiamo avuto un'ufficialità solamente il mese scorso, è una roba che secondo me è stata fatta, ma poi ci si è pentiti, ma andava fatta comunque. Sarebbe stata fatta adesso, eh? Sì, no, no. Non è che l'hanno spostata più in là, ma sarebbe saltata Interverona, per dire, no? Sì, a me, a me, però, cosa spattava? Sì, no, io ribadisco, per come la vedo io, la Supercoppa sono nostalgico, mi piacerebbe giocarla ad agosto, in gara secca. E vabbè, dai. Allora la Champions la gioca chi vince lo Scudetto e basta, come è stato per 40 anni. No, questo Final Four in Arabia, per ragioni economiche, a chi gli tocca si piglia i soldini e la va a giocare. C'è un lato positivo, è comunque un trofeo che ti puoi giocare, ti porta dei lindini, come si dice a Milano, che addirittura oggi leggevo che se l'Inter dovesse vincere il trofeo si parava praticamente Buchanan con gli 8 milioni. E quindi è sicuramente… Quello è un lindici, Buchanan. Che poi dobbiamo capire, Buchanan, Buchanan, poi ce lo dirà lui come si intitola questo giocatore. Però è complicato, senza dubbio, ha ragione Francesco, potrebbe saltar fuori un Inter-Napoli, per esempio. Eh sì. Però, vabbè, poi le partite facili arriveranno dopo. È meglio giocarle adesso, secondo me, che quando inizia la Champions. Direttore, è meglio alleggerilirle adesso? Le partite, come dice Riccardo Fusato, per poi avere la Champions forse con la mentalità un pochino più libera e soprattutto anche le gambe più leggere? O comunque abbiamo visto un calendario veramente serrato e veramente impegnativo per l'Inter di Inzaghi? No, in questo caso qui do ragione a Fusato. Ah. A Fusato. E poi, a prescindere da questo, le partite sono tutte difficili. Quando si considerano facili diventano più complicate. Quindi, sotto questo punto di vista qui, non mi trovate completamente d'accordo. A prescindere da questo, devo dire che leggendo il calendario le difficoltà ci sono, su questo non c'è dubbio. Io vedi Riccardo, poi dopo magari, alla fine, faremo un discorso tutto noi. Tu sei amico di Gian Felice Facchetti, no? Devo dirti che il ragazzo, poverino, ha già sputtanato il papà in una sentenza dove si dice Facchetti faccia lobbying con l'arbitri. Sta continuando. Sta continuando, ma sai perché? Sta continuando perché praticamente io ho risposto al Presidente Ammorati dicendo che la pianti di fare questi discorsi. Perché c'è una sentenza che parla diversamente, la sentenza 21-66 del 2018, che dice da parte del giudice che faceva lobbying con gli arbitri del Presidente, da parte del dottor Palazzi che era approcciatore federale che dice che l'Inter è la società che rischiava più di tutti per il comportamento illegale del suo Presidente. Ma di che parla? Ma fatelo tacere, è vero che mi dicono che vuol fare l'attore, quindi fa queste cose per metterci in evidenza. Ma perché sputtanare il papà? Non lo vedo io una cosa seria. Uno. E poi dopo c'è da questo, ripeto il discorso che ho fatto prima, cioè che per me l'Inter la guardo in una maniera diversa con gli uomini che conducono l'Inter, che non piangono ma cercano di fare nel migliore dei modi il loro lavoro. E questi uomini qui non sono Ammorati, che per qualsiasi cosa piangeva dalla mattina alla sera. Piangevano un po' tutti però Luciano, non piangeva solo lui. No, aspetta, quando mi ha tolto la parola Ammorati hanno vinto tutti tre, hanno fatto tre plede. E questo qui lo sta a dimostrare. Adesso, nel momento in cui praticamente questo qui interviene su un discorso mio con Morati e perde l'occasione per stare in dritto, oltretutto mi dice, sai cosa, guardiamo la fettina penale. La mia è pulita, la sua non lo so, ma lui non conosce neppure le regole del Tribunale, capisci? Quindi parla senza sapere quello che dice e con questo mi ditto. Ecco perché certe volte la gente dice, parla dell'Inter e la definisce una società di pianione. In realtà non è così, perché da quando è in mano a gente seria come Beppe Marotta e Ausilio, l'Inter è rinata anche verso gli occhi anche di quelli che non sono interisti. Guarda che ti dico. E io sono il primo. Io sono il primo perché a me piacciono le persone che lavorano bene e fanno silenzio. Se no, quelli che guardano le figurine panini e poi dopo prendono i giocatori delle figurine. Io non ho mai comprato io Taribo West o Aganzo Gour. Aganzo Gour non facciamo neppure il bagno con i giocatori perché è per una questione di religione. E a proposito di giocatori, direttore, torniamo a parlare di Inter contro giocatori perché l'Inter recupera Cialanoglu, recupera Lautaro e recupera Di Marco in forse. Possiamo mettere il quadro? Scusate, scusa Ezio. Ecco, questo qui è un altro esempio. L'Inter è riuscita a prendere Cialanoglu. E questo qui è un titolo di merito da parte di chi sta a lavorare. Mentre quando c'era Moratti, perdevano i giocatori che praticamente valevano e le scambiavano. Adesso non voglio stare neppure qui a sottilizzare. Basta dire che Moratti in un anno ha cambiato cinque allenatori. E allora ripartiamo da qua. Io lo so, voi siete rimasti incollati al teleschermo per scoprire quale è il quarto nome di Ezio Morina. Ezio, ora, io non vorrei che tu mi deludessi, ma io posso passare in secondo piano, che tu deludessi i nostri amici a casa. Quindi mi raccomando, attenzione. Mi delude comunque, che lo dico, non lo dico. Perché hai grande responsabilità in questo nome. C'è qui anomalia. 22,46, attenzione. Il quarto nome, poi parliamo prima di quelli che hai citato tu, ma il quarto è Acerbi, il commercialista Acerbi, che fa i conti nelle tasche degli altri e vorrei puntualizzare qualcosina. Dimmi tu quando lo posso fare. Sul fatto di essere commercialisti, quando si va a toccare l'Inter diventano tutti commercialisti. Toccare l'Inter mi sembra che sia abbastanza facile, se andiamo a guardare i bilanci. Ma a maggio tireremo le soldi. Non sta facendo niente fuori dalle regole, cosa che hanno fatto altri. Invece, il campione d'Europa con la nazionale Acerbi, bravo ragazzone. Cosa ha detto Di Male? Il vice campione d'Europa che sta a Acerbi. Cosa ha detto Di Male? Ha detto un'imprecisione. Perché lui, già mi chiedo perché debba parlare del bilancio della Juventus, e preoccuparsi dei 200 milioni di spesi della Juventus, facendo riferimento ovviamente agli acquisti Bremer, Vlaovic e Chiesa. Si dimentica che la Juventus in quel momento ha ceduto Cristiano Ronaldo. Ma cosa ha detto Di Male? Dimmi dov'è l'anomalia qui. L'anomalia è che, come l'ha detta lui, sembra che la Juventus abbia tirato fuori 200 milioni e incassato zero. Spesi e basta. Non ha detto così. Si dimentica che la Juventus, oltre a liberarsi dell'ingaggio di De Ligta, ha anche incassato 70 milioni. Non ha fatto la differenza di entrate e uscite. Scusa, finisco. Poi, liberandosi dell'ingaggio di Di Bala e di Cristiano Ronaldo, messe insieme a quelle di De Ligta, sono 104 milioni. Ma non ha dato un più o meno. 174, quindi da 200. Non ha fatto più o meno. Ha detto, non vedo perché, non deve essere favorita una sformazione che ha speso 200 milioni sul mercato. E invece non è così perché lo juventus ha speso 7 milioni per comprare qua. Ma no, ma gli investimenti infatti sono diversi. La battuta di Acerbi, cosa si preoccupa? Secondo me è forbiante perché lui, dicendo così, dice loro hanno speso 200 milioni per comprarsi quei tre giocatori, da noi sono andati via dei giocatori importanti a parametro zero, come lui ha fatto i nomi di Lukaku, di Skriniar, di Onana. Cioè, detta così è proprio detta male, questa cosa, perché racconta una verità che non è la verità. Cioè, nel senso, all'Inter sono andati via dei giocatori, intanto per Onana hai incassato 50 milioni di euro. E poi comunque la Juventus ne ha spesi 200, non nello stesso esercizio. No. L'Inter comunque quest'estate ha fatto acquisti importanti perché Pavard lo ha pagato, Sommer lo ha pagato. Sì, ma il concetto di base era... Lui sta dicendo una cosa, come dire... Da noi sono andati via tutti, loro hanno speso 200 milioni. Il concetto di base è chiaro che è un'esasperazione, però il concetto di base è che siccome da Torino continuano a dire che l'Inter deve vincere il campionato, non si sa per quale astro, perché di solito uno dice spendo 100 milioni, sono favorito per il campionato, gli dici in realtà l'Inter non ha fatto questi grossi investimenti per essere la favorita indiscussa del campionato. E siccome Allegri in più di un'occasione dice il favorito per lo scuoletto è l'Inter e noi puntiamo il quarto posto... E gli ha fatti la Juventus comprando UEA? No. I grossi investimenti quest'anno? La Juve ha fatto degli investimenti nettamente superiori a quelli dell'Inter. Sì, ma non quest'anno. Non quest'anno? Sì, certo. Però non puoi dire sempre eh ma non siamo favoriti perché l'Inter ha fatto un mercato per vincere il campionato e noi dobbiamo arrivare nelle prime quattro. Se uno, se un allenatore, qualsiasi esso dell'Inter, del Milan, del Napoli, dell'Aroma, non ha detto nulla di male, non ha detto... Vai là, diventi uno sbruffone, diventi un arrogante. Se dici noi vinciamo il campionato perché siamo più forti... No, c'è modo e modo per dire a noi non interessa lo scudetto è un affare dell'Inter Per come è partita la Juventus per come giocava dire puntiamo ad entrare nei primi quattro Sì, ma ogni domenica questo lo dice ogni domenica e allora ti devi aspettare una reazione che poi non la debba fare il giocatore magari la debba fare l'allenatore per un pari ruolo forse ci sta però non ha detto niente di male Però, visto e concludo perché sennò do troppa importanza Ma l'hai tirato fuori è un problema che non esiste Sono contento che Francesco che è superparte Ma è un problema che non esiste Non ti ha dato ragione No, non ti ha dato ragione Lui ha puntualizzato È un problema che non esiste Detto questo ragazzi Io non vorrei entrare a gamba tesa Ma metti il naso a casa tua Ma metti il naso a casa tua Che cosa c'entra? Vole cercare la puzza in giro che hai caduto in casa Lui ti parla di Inter Lui ti parla di Inter Ritrovi dei nomi importanti vale a dire ritrovi Ceronoglu ritrovi Lautaro e forse possa ritrovare Di Marco Ma non sono come i nostri che stanno fuori 3-3 Sì allora no sono notizie di oggi queste ovviamente nel caso di Ceronoglu ieri aveva la febbre oggi invece si è allenato quindi con il Verona ci sarà Domani dovrebbero orientare in gruppo anche Lautaro e Di Marco e potrebbero essere convocati per il Verona poi da capire se verranno spierati dall'inizio o meno però insomma l'Inter ritrova a parte Ceronoglu che aveva solo avuto un piccolo problema di febbre però va a ritrovare due giocatori che siccome sono mancati all'Inter in queste partite perché magari in casa con Lecce vero se non sbaglio te la cavi lo stesso ma per esempio a Genova la mancanza di Lautaro secondo me si è sentita e anche in maniera importante questa cosa qui è un po' particolare poi viene da sorridere perché nel caso dell'Inter Lautaro e Di Marco con risentimenti muscolari sono stati fuori due settimane nel caso di Lavia il nostro risentimento muscolare viene operato e sta fuori quattro due mesi però non di settimane però vabbè questi sono altri risposti ma che il Milan avesse un errore quantomeno una lacuna nella preparazione muscolare e non solo atletica dei giocatori penso che fosse chiaro abbastanza a tutti ragazzi a tutti chiaro però è importante non ho visto niente che è stato fatto nel Milan per sopperire a questa lacuna evidentissima ma adesso cosa fai? io cambio i preparatori perché no? a metà stagione? certo qualche giorno fa un giornale quotidiano sportivo molto noto il Milan di Montella a metà stagione a gennaio ha cambiato il preparatore atletico perché anche in quel caso lì avevamo tantissimi infortuni muscolari e il Milan di Montella ha cambiato il preparatore atletico quindi secondo me se c'è un errore che si può fare io non lo sto dicendo che non si possa fare però è peggio non porre rimedio l'errore che ormai è evidente perché 30 infortuni va bene la sfortuna però secondo me c'è qualcosa che non è stato fatto bene indubbiamente però tornando sull'Inter allora direttore l'Inter comunque è chiamata a anche avendo visto no? la possibilità della Juve di essere di nuovo in pole position di superare l'Inter avendo una partita in più è chiamata assolutamente a vincere nella prossima giornata di campionato e il fatto che abbia ritrovato questi nomi di cui ci parlava Francesco Monfanti poc'anzi sicuramente è un punto a favore per la squadra di Inzaghi vincere è tassativo è doveroso oggi più che mai indubbiamente è una cosa importante anche perché non è da sottovalutare la partita per ora così come non è da sottovalutare la Salernitana ha la Reiki contro la Juventus attenzione quindi però poi dopo io ho seguito tutti gli altri discorsi da basforte resta un fatto importante adesso in questo momento che ha fatto gli acquisti mirati praticamente per esempio io ho sentito sempre l'Inter i tifosi i giornalisti che si era rindebolita con la mancanza di Lukaku e di Zeko allora ha trovato un giocatore che nella sostanza oltre che saper giocare a pallone sa dare la palla al compagno per segnare dei gol e le segna pure lui ed è Torano quindi dire che si era rindebolita mi sembra una cosa fuori dalla logica diciamo che ha fatto degli acquisti mirati ed è per questo la squadra più forte del campionato che poi per ragioni particolari visto e considerato che praticamente il campionato è lungo e faticoso la Coppa dei Campioni è lunga e faticosa la Supercoppa è lunga e faticosa perché adesso non sono più due in incontro secco quindi voglio dire tutte queste cose messe insieme possono affaticare l'Inter e meno la Juventus che può anche combattere con l'Inter fino alla fine questo è il discorso che deve essere fatto il resto lascia il tempo che trovo se dobbiamo valutare in questo momento le formazioni noi dobbiamo dire che l'Inter ha l'attacco più forte la difesa più forte e il capo cannoniere di più non si può avere quindi tacciniere tutti questi sono disposti a basporte che è proprio Riccardo? no ha maggior ragione di quello che dice Luciano trovo un po' assurde le critiche a Inzaghi quando gli si viene fatto notare che fa troppo turn over secondo me invece questo è un ragionamento a lungo termine che porterà dei benefici perché comunque però Riccardo gli hanno contestato quando nella partita della Champions dove tu giochi il primo posto ti puoi giocare il primo posto e cambia parecchio sì tu hai fatto il turn over lì per la partita di campionato? no no io sto parlando di in generale perché poi comunque con Real Sociedad c'erano fuori tre titolari non è che ha fatto il suo stravolgimento se tu mi parli di Siviglia allora sì però ripeto il fatto che l'Inter abbia comunque una rosa competitiva il fatto che comunque abbia Pavard fuori da un mese e mezzo De Vrij è stato fuori il bastone è stato fuori vuoi i miei? facciamolo concludere facciamo un ragionamento logico senza vai Riccardo vai vai a spremere Darmian vai a spremere Acerbi cioè vai a spremere comunque dei giocatori il turn over è essenziale tu non puoi avere cinque competizioni e e far giocare sempre gli stessi prima o poi devi fare il turn over su questo è che il riferimento di di Max era tu avevi l'Udinese e la Real Sociedade questo il turn over lo fai con l'Udinese è lì che è stato contestato non del turn over che hai fatto in Giray quel tipo c'è l'Udinese la partita della Taro Martinez la Real Sociedade senza Taro Martinez fai ben più poi però è entrato non ha fatto lo stesso però un conto è entrare un conto è giocare dall'inizio io credo che comunque lui stia facendo bene cioè a prescindere da tutto sta centellinando la rosa sulle sostituzioni gliene avete tette di oggi no ma a sproposito vabbè sta gestendo molto bene la rosa e sta cercando perché lui lui sa che quest'anno non può sbagliare sta cercando di convolgere tutti nel gruppo e quindi nella sua testa posso intervenire? no si finisco nella sua testa ci sta a dire non do il contentino a Frattesi perché lo faccio giocare con l'Udinese lo faccio giocare in Champions cioè quindi vuol dire che ci credo in conclusione direttore Luciano Moggi che poi ragazzi voglio commentare con voi la prestazione della Roma guardare rapidamente ma ritorno sul discorso del Mila quando parlavate di infortuni muscolari sì 30 infortuni muscolari sono tanti sapete da cosa dipende l'infortunio muscolare? dipende dalla mancata prevenzione a questi infortuni perché i giocatori vanno visti in allenamento e si vede che quando sono affaticati come corrono evidentemente nel Mila è mancata la prevenzione e la prevenzione praticamente ti mette a riposo un giocatore nel momento in cui ma Luciano tu staresti intervenuto un errore nella preparazione però faccio una domanda a Luciano ma su Luciano tu hai una squadra con 30 infortuni di questo genere no? tu intervieni o lasci tutte le cose come stanno? eh sai che facevo io adesso te lo dico così ti rendi conto io quando ero io siccome dovete sapere dovete sapere che l'allenatore vuole in campo i giocatori il più possibile anche se sono mezzo in mezzo il preparatore da retta all'allenatore il medico sociale praticamente è quello che vuol bandare in campo i giocatori quando sono sani completamente i massaggiatori fanno quello che le dice l'allenatore il preparatore allora quando succedono queste cose io sai che facevo siccome a me non mi sono raramente mi sono successe io facevo una riunione il venerdì sera alla Juventus e chiamiamo tutti gli allenatori tutti i massaggiatori tutti i preparatori atletici tutti quanti li facevo litigare tra loro perché chi voleva una cosa chi ne voleva un'altra poi facevo la somma di quello che era stato detto e poi facevo quello che dicevo che sembrava a me giusto però tenendo conto quindi alla fine quindi alla fine sì ma è così che e adesso siccome ci sono pareri diverse ripeto dall'allenatore al preparatore al medico sociale bisogna farli parlare tutti e poi desumere il meglio di quello che hanno detto e metterlo in azione questo è quello che facevo io e beh è sempre andato bene allora ragazzi è andato bene anche la Roma perché alla fine è riuscita a sbloccare il risultato grazie alla rete segnata da Lukaku al settantasettesimo e al gol concretizzato dal dischetto da Tibala all'ottantacinquesimo così la Roma passa il turno di Coppa Italia una Roma che necessitava di questo risultato grazie alla nostra regia per il tabellone della Coppa Italia 2023-2024 necessitava stavo dicendo la squadra di Murigno di questo risultato anche vista la posizione in campionato quindi è derby quindi è derby e quindi è derby ragazzi Roma-Lazio attenzione Francesco ne avevamo parlato poc'anzi sì sì vabbè la Roma ha fatto una fatica enorme per avere la media della Cremonese che a un certo punto ha avuto anche una buona palla per fare il secondo gol poi insomma più che fare le sane barricate cosa poteva fare cioè alla fine è questione di episodi il pareggio di Lukaku il rigore un po' ingenuo causato su Spinazzola il gol di Dybala e poi la partita insomma in qualche modo è finita cioè la Roma ha fatto troppa fatica per avere meglio la meglio su una squadra di Serie B per andare a passare un ottavo di finale di Coppa Italia era ovvio che alla fine che giocasse molto sui nervi sulla sull'emotività sulla pressione che volevi in qualche modo mettere alla Cremonese che comunque era andata in vantaggio all'Olimpico quindi diciamo così un grande spavento per la Roma che poi si è risolto nel loro caso nel migliore dei modi Roma che guadagna e si guadagna il derby nei quarti di finale Coppa Italia che non perde un'altra grande protagonista dopo aver già perso Inter e Napoli è una Coppa Italia che da quella parte del tabellone insomma presenta questo derby che tra l'altro è sempre molto affascinante è in gara secca tra l'altro eh sì adesso Francesco scusate adesso bisogna vedere cosa significa questa partita di stasera per domenica quando ci sarà Roma-Atalanta perché la Roma si è spremuta in fondo per vincere la partita e magari la doveva prendere già dall'inizio in maniera diversa come l'ha presa la fine e domenica si gioca Roma-Atalanta e l'Atalanta sicuramente darà del filo da torcere a Roma anche sotto il profilo eh non tattico né tecnico eccetera ma soprattutto del mancato affaticamento probabilmente più affaticato anche perché è uno scontro diretto l'Atalanta ha 29 punti e Roma ha 28 ragazzi quindi veramente scontro diretto si giocano punti quasi in chiave Champions ragazzi è in chiave Champions è in chiave quarto quinto posto Bologna 31 che è il quarto posto sicuramente è un turno molto interessante questo allora la concludiamo così soltanto per ora con la grafica della classifica di Serie A grazie alla nostra regia ci fermiamo ragazzi attenzione però perché noi andiamo avanti fino alle ore 24 e quindi diamo il via diamo l'inizio a 60 minuti interamente dedicati al calcio mercato si allora intanto diamo una velocissima notizia di giornata per Bucchanan o Buccanan che dir si voglia il giocatore del Bruges è praticamente fatta al Bruges vanno 7 milioni di euro più un e mezzo di bonus al giocatore un quinquennale da un milione più bonus c'è stato solo un piccolo intoppo perché il giocatore che domani è atteso in Italia per le visite mediche firmerà il contratto con l'Inter ma poi deve tornare in Belgio perché essendo lui canadese ed essendo lui extracomunitario ha bisogno di un transfert in quanto appunto lavoratore cittadino extracomunitario all'interno della comunità europea per cui per ragioni prettamente burocratiche non sarà presente al debutto in Inter Verona per cui la prima volta che i tifosi in Razzurri lo vedranno dopo per l'impegno di sabato 13 a Monza ma solo ripeto per questioni burocratiche è interessante invece andando a vedere anche in grafica gli obiettivi di mercato dell'Inter ci sono due nomi importanti che sono quelli di Zielinski e di Taremi entrambi a parametro zero credo che soprattutto Zielinski sia un gran colpo perché 29 anni l'Inter lo va a prendere dal Napoli non lo paga lì secondo me De Laurentiis se l'ha un po' lasciato scappare perché io volevo fare un contratto a ribasso l'Inter non ci ha pensato due volte triennale se non erro da quattro e mezza stagione a partire da giugno rinforzo secondo me di grandissimo valore per il centrocampo dell'Inter appunto soprattutto perché ha preso parametro zero eh sì assolutamente soprattutto perché non pesa sulle casse dell'Inter e a tal proposito Riccardo vengo da te chiaramente dei tre nomi che abbiamo letto quale ti rende più felice più soddisfatto ma guarda io credo che ha detto bene Francesco su Zielinski è stato fatto un'ennesima grande operazione di mercato rispecca un pochettino la storia quella che è stata fatta con Cialanoglu eh prendono un giocatore importante che credo in prospettiva sarà il sostituto di Mkhitaryan e e innestano un altro giocatore secondo me di qualità in un centrocampo dove credo che oggi l'Inter con questo centrocampo sarà posto giocare con chiunque ok gli altri nomi sono prospetti per giugno ehm anche sul fatto che comunque eh si era parlato nelle ultime ore è chiaro che fino a che non finisce il mercato eh non si è mai certi di nulla però da quello che e poi appena anche iniziato quindi ovviamente sì no però siccome le trattative si fanno prima del mese di gennaio sì come si fanno durante l'anno per luglio da quello che filtra dall'Inter eh sulla questione punta sembra proprio che l'Inter non si muova sotto questo profilo eh rimane la fiducia Sanchez eh tu avresti voluto qualcuno c'è qualcuno nel tuo mirino per quanto riguarda l'attacco Inter ma sai purtroppo eh deve uscire un giocatore cioè oggi eh nella condizione in cui è l'Inter ma come tante altre squadre perché vedo che anche altrove si ragiona sull'entrata e uscita eh se Sanchez non esce eh credo che Taremini non possa arrivare ma Taremini è un prospetto troppo complicato a gennaio perché Porto è comunque in Champions ok e comunque si sta giocando il campionato sono due prospetti internazionali molto importanti anche questo dialogo che che dicono sia un ottimo prospetto credo che se è questo il mercato dell'Inter eh Marotta e Ausilio si stanno muovendo molto bene arriva questo canadese io non non credo che che arrivi eh un fuoriclasse assoluto però è un giocatore che in prospettiva può essere sempre utile che secondo me andrà a sostituire Dunfris che molto probabilmente eh a giugno verrà messo sul mercato in quanto non ci sono le condizioni per un rinnovo perché tu l'avevi visto prima te lo ricordavi questo che andrà ma io ho visto l'ho visto all'Europeo l'ho visto al Mondiale cioè l'ho visto al Mondiale l'ho visto in qualche partita viene da una realtà particolare lo sanno meglio Max i cugini eh arriva da un campionato The Kettler per esempio arriva da un campionato particolare dove era molto quotato prima cioè quando giocava in America era molto quotato poi ho perso un po' la quotazione era un buon processo essere quotato in America che avviene anche la nostra no 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 i City avevo offerto 38 milioni o qualcosa del genere io sento ai Mondiali non aveva fatto male eh però ripeto eh Riccardo posso sembrare ironico forse un pelino lo sono ma io quando ho sentito il nome di questo giocatore ho detto ma chi è? e mi chiedo quanti tifosi dell'Inter abbiano detto ma chi è? probabilmente tanti ma eh sai ma adesso ne sento parlare Aumu no 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 io non ho detto che è un giocatore che è improvviso cioè fino l'altro ieri ma allora ultimamente sai beh però per la rosa dell'Inter no no però ultimamente cioè anche da dire ma la rosa dell'Inter ha bisogno di un innesto come questo però un momento semi sconosciuto però quando tu vai a prendere Dufris però nell'ottica del calendario segnato nell'ottica dell'avere partite sulle gambe alleggerire è un discorso che non sta in pieni perché Varascheglia chi lo conosceva? no aspetta quando tu vai a prendere Dufris chi è Dufris? non lo conoscevi eppure è cresciuto nell'Inter io non ho detto che è un frolicassi io ho detto che è un giocatore che arriva perché manca un pezzo che è quadrado e quindi va io ti ho detto questo perché ne ho sentito parlare come all'acquisto di gennaio dell'Inter guarda l'Inter cosa fa beh è un giocatore che comunque è interessante perché ha le caratteristiche per saltare l'uomo eh spendi comunque dei soldi perché comunque fa un investimento io ripeto è un'operazione che si fa istantaneamente perché ti manca un pezzo a destra e anche futuribile perché da quello che filtra ci sono problemi con il rinnovo di Dufris lui è un giocatore che gioca da quinto e quindi sicuramente andrà perché ha mercato più futuribile che per che per adesso che sì comunque col fatto che Dufris rientra Pavard e Bissek indietro ce li hai quindi Dufris e Darmian può giocare Darmian però ripeto magari lo fai per non fartelo portare via da giugno 1 e 2 comunque lo fai in un'ottica di calendario serrato in cui l'Inter è impegnata in diverse competizioni sì però in questo momento rischi di averne 3 per un posto perché Dufris non è un odore di trasferimento Bissek? no è Dufris quello che più oggi rischia però non adesso però a giugno a giugno però adesso tutti i ritorni però ti manca uno lì perché se hai deciso che Darmian deve fare il braccetto dietro e però i Dufris e che Pavard eh lo so ma da quinto l'idea di Inzaghe è di metterlo nel 3-5-2 quinto a centrocampo sì però ne hai tre sì sì hai Dufris Darmian e adesso hai questo Buchanan sì sì adesso ne hai tre adesso ne hai tre se poi dici lo faccio in prospettiva perché non me lo fregano per giugno prima che si alzi la quotazione non è direttore di questi tre nomi chi ti ispira di più del mercato Inter eh guarda io adesso devo dirvi una cosa io credo che Gielischi e Taremi siano giocatori importanti e poi presi anche a parametro zero credo che sia una cosa decisamente importante però bisogna stare attenti a cosa a cosa perché i giocatori a parametro zero i giocatori a parametro zero i giocatori a parametro zero nascondono praticamente un'insidia e c'è quella dello stipendio grande dello stipendio grossissimo che quattro milioni e mezzo diceva Francesco Bonfanti di norma di norma in passato comprendeva e l'acquisto del giocatore e lo stipendio del giocatore adesso tutte queste cose sono conglobate nello stipendio del giocatore soltanto quello che ha parametro zero perché perché i giocatori praticamente sono diventati adesso con i parametri zero sono diventati padroni se stessi quindi oltre che essere dipendenti praticamente comandano perché dispongono della loro vita praticamente non da dipendenti ma da datori di lavoro in quanto che possono andare da una parte o non possono andare da una parte quindi come qualità sicuramente Taremi è sicuramente uno che ci può stare tranquillamente in qualsiasi squadra ideme Gelischi e credo che l'Inter con Gelischi abbia fatto un colpo abbastanza importante perché è una mezza punta che adesso viene utilizzato da interno non è il ruolo suo che ha un sinistro che brucia quindi è un giocatore importante che può aiutare gli attaccanti messo in zona più avanzata quindi è giusto dire che è un è un acquisto a lungo termine per il futuro l'idea è quella di farlo giocare al posto di Mkhitaryan perché oggi Mkhitaryan copre quel ruolo si parlava anche ma è vero è vero l'abbiamo detto questi vedi sono l'acquisti mirati di cui parlavo prima attenzione perché tu hai un giocatore di 36 37 anni e devi salvaguardare anche praticamente l'attività sua fisica eccetera non ti può rendere per tutto il campionato tu hai un giocatore che puoi mettere tranquillamente dentro la squadra e può dare il rendimento di Mkhitaryan o anche meglio di Mkhitaryan perché probabilmente è più portato a segnare dei gol assolutamente assolutamente ragazzi abbiamo visto il mercato Inter dall'altra parte di Milano chi troviamo? mercato? Milano ovviamente non voglio spoilerarvi nulla non voglio anticiparvi nulla perché? perché scoprite tutto quello che c'è da scoprire tra due minuti l'inallergia pubblicitaria rimanete qui diretta sotto